Si è svolta nella serata di ieri una seduta di Consiglio Comunale Fiume ad Andria, durata quasi 10 ore e terminata alle 5.42 del mattino. Un'assise fondamentale per il futuro dell'ente stesso, con tre importanti punti all'ordine del giorno, e tra questi il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Al Consiglio hanno partecipato 29 consiglieri, 4 gli assenti, e tra questi la consigliera Stefania Alita, fondamentale per i numeri risicati della maggioranza. La stessa maggioranza, dopo diverse accese discussioni, ha approvato prima la semplice ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, mentre particolarmente accesa è stata invece la discussione con la successiva approvazione, sempre a maggioranza, sulla riduzione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri stessi. Lunga la fase di scontro anche per la proposta di riduzione del numero di assessori con le relative indennità. Su questo si è giocato gran parte dello scontro sia all'interno della maggioranza stessa che con le opposizioni. Complesso, secondo gli indirizzi del segretario generale, approvare un ordine del giorno o un emendamento al piano di riequilibrio, perché ci sarebbe dovuto essere un parere dei revisori dei conti che avrebbe richiesto del tempo. Lo scontro però è stato dai toni accesi per usare un eufemismo, con particolare animosità per la consigliera Laura Di Pilato, del gruppo misto, ma anche del consigliere del Movimento 5 Stelle Vincenzo Coratella, che assieme a Sabino Fortunato del PD hanno più volte chiesto le dimissioni del sindaco Giorgino. Alla fine spazio al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con la presentazione affidata ad un lungo monologo del sindaco stesso. Il primo cittadino ha illustrato e tracciato un lungo percorso sui motivi che hanno portato l'ente al predissesto. Primo tra tutti la riscossione delle entrate, il recupero dell'evasione tributaria e la presenza di residui attivi mai riscossi dall'ente, oltre naturalmente ai debiti fuori bilancio. Tutte motivazioni che in realtà nel tempo i revisioni dei conti, ma anche il Ministero dell'Economia durante la sua ispezione, hanno sollevato. Piano che sarà spalmato in 15 anni e che, come è ormai ben noto, prevede un aumento di tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale, con il ridimensionamento anche di alcune azioni, come per esempio il taglio delle forniture per circa un milione di euro alla multiservice. All'alba il piano è stato comunque approvato all'unanimità dei votanti, e cioè 18, compreso il consigliere Antonio Nespoli e tutta Forza Italia, che durante il Consiglio si è battuta per due emendamenti ed un atto di indirizzo. L'amministrazione virerà sul potenziamento dell'ufficio tributi per la riscossione e non sull'affidamento esterno del servizio, oltre a pensare, con successivi atti di giunta, di ridurre invece il numero di assessori a sei con le relative indennità. Tra il sindaco Giorgino e la sua maggioranza, tuttavia, non sono mancati moltissimi momenti di tensione, esplicativi di una situazione inclinatasi nel tempo e che sicuramente renderà ancora più complesso questo finale di secondo mandato a Nicola Giorgino. Ora il documento, così come approvato dal Consiglio, sarà valutato dalla speciale commissione del Ministero, che ne dovrà certificare la sostenibilità, prima di dare il via libera definitivo al piano stesso, con il parere anche della Corte dei Conti.